Partirei dalla bellezza di questo luogo che è veramente straordinaria e conosciuta nel nostro territorio, sia per il valore di natura paesaggistica, la veduta ampia, nelle giornate limpide si vedono gli appennini, dal punto di vista dell'aspetto faunistico, dell'integrità paesaggistica e della bassa antropizzazione di questo luogo. Avere un luogo molto visitato e molto caro agli alzanesi, un luogo davvero che ispira a poesia e con questi interventi davvero aggiungiamo un significato in più, un elemento in più che è quello di recuperare le pozze di abbeverata che un tempo avevano la funzione di dare appunto beveraggio alle mucche che erano al pascolo ed oggi hanno un significato diverso, quell'attività, quel significato complementare che hanno assunto nel tempo, cioè quello di popolare questi luoghi con la fauna anfibia e con tutta un'altra serie di insetti, di specie, ma anche di garantire acqua alle numerose specie selvatiche che sono presenti in questo luogo. Quindi recuperare queste pozze che ormai da 30 anni non esistevano significa ridare splendore a questo luogo già bello, già straordinario, ma dare e garantire un futuro a questo luogo che nelle stagioni tra l'altro acquista delle vesti belle e diverse, dalle gelate invernali ai fiori della primavera al verde splendido dell'estate, del profumo di fieno, veramente un luogo magico che con queste pozze acquisisce davvero ancora un valore aggiunto, un valore superiore. Un luogo che tra l'altro ha un'importanza fondamentale anche nella storia di Alzano e della Bergamasca, questo era il punto di passaggio della via Mercatorum, per cui un punto fino al 1500, perlomeno fino a quando poi è passata la strada Priola in Val Brembana, dove c'è stato un grande transito di uomini, un grande transito di interessi economici e commerciali e ciò nonostante ha mantenuto questa bellezza, questa integrità.